Lecce poco incline, almeno nelle intenzioni pre-gar all'essere garante, neppure se davanti alla regina Fanalino di coda della classifica. La squadra di Pagliari si presenta con lo stesso abito che nel turno precedente ha permesso di portare a casa la vittoria con il Matera. Pagliari si affida nuovamente al 4-3-3, unica novità in formazione la presenza dal primo minuto di Diniz. Lopez e Sacilotto sono in panchina dopo la promozione a pieni voti di Herrera e di Chiara. Pagliari ordina i suoi di mostrare i muscoli e la squadra risponde presente al suo tecnico. Gli equilibri in campo vengono rispettati solo per pochi minuti, fino a quando Moscardelli riceve in quello che è il suo habitat naturale, l'area di rigore e da lì il bomber non sbaglia. È la quinta marcatura personale nelle ultime cinque gare per l'eroe Barbuto che sale così a quota 11 nella speciale classifica. Marcatori, non è solo un episodio perché la squadra giallorossa trova di fronte una regina poco concreta, ma col passare dei minuti si intuisce che sono le giocate di Papini e compagni a creare problemi di manovra alla formazione di mister Alberti. Il Lecce gioca bene, gioca da squadra, pare solida, compatta tra i reparti. Herrera ha dimessichezza con il gol e ci prova con il giro che gli viene deviato però in angolo. Intorno alla mezz'ora la regina riaccende i fari e prova ad affacciarsi nella metà campo giallorossa. La squadra di Pagliari esprime buone trame di gioco, la manovra è corale. Nei dieci minuti finali del primo tempo calano i ritmi, il centrocampo diretto da Papini arretra il baricentro consentendo così agli Amaranto di costruire qualche azione degna di nota, pericoli che sembrano comunque essere ben controllati. Poco prima della pausa Lepore dalla destra disegna un traversone perfetto per Moscardelli che non riesce però a colpire per l'intervento di Cirillo in estremis. Sarebbe stato il coronamento di una bella azione. La ripresa regala un'altra partita, la regina dalle prime battute mostra un piglio diverso, un atteggiamento più propositivo. Al 65esimo trova il gol del pareggio con Masini. La squadra di Pagliari perde in profondità, la manovra diventa lenta e poco incisiva. Ci si affida ai piedi di Lepore che da calcio piazzato sfiora il montante. Il Lecce sembra risvegliarsi e il tandem della Rocca-Moscardelli fa correre un grande brivido sulla schiena di Belardi. Gol divorato dai giallorossi. Il calcio è spietato e la sua legge è crudele. Gol mancato, gol subito. Presto detto Maimone regala il sorpasso alla sua squadra nell'incredulità di mister Pagliari. I minuti finali vedono il Lecce proiettato in avanti in un forcing disperato ma sterile perché il risultato non cambia. Brutta caduta per il Lecce che non sfada la maledizione che lo vede soffrire con le piccole del girone. Uno stop che pregiudica i piani classifica e solleva qualche interrogativo sulla prestazione dalle due facce tra primo e secondo tempo.